Vimed nasce nel 1976, quindi ha una storia che si avvicina al cinquantesimo anno dalla fondazione. Inizialmente era un'azienda al di fuori del gruppo Movi. Da qualche anno è di fatto una divisione del gruppo Movi, che è una società che opera nel settore medicale attraverso quattro differenti divisioni di business. Vimed si occupa principalmente di commercializzare prodotti per il benessere in casa e quindi prodotti destinati alla terza età e alla disabilità. In fiera intanto abbiamo voluto partecipare con uno stand molto inclusivo per ricevere tutti i nostri clienti e i prodotti che ci caratterizzano e che ci sono riconosciuti dal mercato sono prodotti come i letti elettrici, poltroni a relax, scooter elettrici e sistemi a t-de-cubito. Sono prodotti di punta con un'ampia gamma di prodotti per soddisfare le esigenze dei pazienti e dei clienti. Generalmente noi incontriamo i nostri clienti e cerchiamo di raccogliere da loro gli spunti per poi progettare dei prodotti che siano allineati alle esigenze del mercato. Quindi c'è una continua ricerca che deriva dall'esigenza e dalle richieste del mercato. Ovviamente la ricerca è anche quella di avere dei prodotti dove il rapporto qualità-prezzo incontri le dinamiche del mercato che soprattutto in questi ultimi anni ovviamente hanno subito delle criticità legate alla pandemia in corso. Grazie per la visione!